Musica Bentrovati a tutti gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con una nutrita pagina dedicata alla cronaca. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nel Fermano sulla Lungotenna dove un uomo di circa 50 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. È finito fuoristrada con il suo scutere e l'impatto gli è stato fatale. Immediato all'intervento del 118 della Croce Azzurra di Porto San Giorgio i sanitari hanno trovato il centauro già in condizioni estremamente gravi per un arresto cardiaco e sono stati poi inutili i tentativi di rianimarlo. Sono scattate le manette per una quindicina di persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta dei redditi mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, impiego di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere l'imposta sui redditi e sull'IVA e attività organizzata per il traffico di rifiuti. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri di Chieti e dalla Guardia di Finanza di Ascoli unitamente al Nucleo Ecologico Operativo dell'Arma. Sono state inoltre sottoposte a sequestro due società operanti nel settore del recupero dei metalli ferrosi riconducibili agli indagati ed è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di svariati milioni di euro. Restiamo nel capoluogo Piceno dove i poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile attenzionavano da qualche tempo una 44enne noto pregiudicata abitante nella zona di Piazza Immacolata. L'uomo veniva sorpreso ed arrestato mentre cedeva dello stupefacente ad un giovane in particolare ascisce e cocaina. Inoltre non rispettava la misura degli arresti domiciliari evadendo da casa dopo appena quattro giorni per partecipare ad una festa. Il GIP ha quindi disposto la traduzione presso il carcere di Marino del Tronto. Estate e purtroppo con il clima torrido di questi giorni il rischio incendi aumenta sensibilmente. ieri le fiamme hanno devastato una zona boschiva nei pressi di Genga e durissimo è stato il lavoro dei vigili del fuoco. Sentiamo Lino Balestra. È durata tutta la notte l'attività dei vigili del fuoco per aver ragione del vasto incendio scoppiato ieri pomeriggio a Genga non lontano dalla frazione di Pierrosana. Le fiamme residue sono state messe sotto controllo da due Canadair e dall'elicottero della regione Marche con oltre 40 lanci. Contemporaneamente è stato attuato un monitoraggio per prevenire il riaccendersi dei focolai rimasti attivi. L'ultimo rogo di limitata estensione si trovava sulle pendici del monte alle spalle di Cerqueto di Genga ed era tra l'altro particolarmente insidioso perché metteva a rischio gli impianti di telecomunicazione posti sulla sommità del colle. Tutte le operazioni di spegnimento comunque si sono rivelate molto complesse a causa della forte pendenza del suolo. Intanto si indaga sulle cause del rogo. Le fiamme potrebbero essere scaturite dalle scintille prodotte dall'impianto frenante di un treno in transito sulla linea Ancona-Roma. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per diverse ore con due treni cancellati ed una decina di convogli parzialmente cancellati e sostituiti con dei pulma. 20 gli ettari di superficie boscata interessata ma per avere un'esatta valutazione dei danni occorrerà ancora attendere la ricognizione dell'area del rogo. Ancora cronaca con la Guardia di Finanza al lavoro per stanare i furbetti del reddito di cittadinanza. Le fiamme gialle di Camerino hanno approfondito le indagini su quattro soggetti che a fronte di autodichiarazioni da cui emergevano situazioni di sostanziale indigenza si sono rivelati poi accaniti giocatori su svariati siti di giochi online realizzando cospicue vincite per 174 mila euro complessivi oppure erano sottoposti a misure cautelari personali percependo i invece i sussidi statali. Le persone sono state tutte denunciate e sono partite le segnalazioni all'Inps per l'interruzione dell'erogazione della contribuzione. La ricostruzione privata nelle zone del sisma accelera sensibilmente oltre 5 mila i cantieri aperti a fine maggio. I dati forniti oggi ad Offida nel corso del coordinamento ANCI che ha seguito per noi Manolita Scocco. Vediamo. È Offida nella sala del Consiglio Comunale eppure visibilmente danneggiata ad aver riunito in presenza il coordinamento delle ANCI coinvolte nel sisma a Centro Italia 2016. A quasi 5 anni dal terremoto che ha devastato il Centro Italia colpendo 4 regioni e in maggior parte le marche con ben 85 comuni nel cratere, i sindaci per tramite DIANCI chiedono, visto il cambio di passo del commissario Legnini e le nuove possibilità con i contratti istituzionali di sviluppo, di accelerare e avere certezze sulla ricostruzione. La ricostruzione, in particolar modo la cosiddetta ricostruzione privata, cioè quella è finalmente partita. Quindi tutto il lavoro fatto nell'ultimo anno, anno e mezzo dal commissario Legnini in primo luogo, non c'è dubbio, ma anche dai comuni che hanno da questo punto e alla fine anche dal governo e dal Parlamento che hanno accolto le richieste che venivano fatte di modifica di quella che io chiamavo la cassetta degli attrezzi, cioè degli strumenti per poter intervenire, sta dando i frutti concreti e dunque questo è importante. Ci sono però altre cose sulle quali ancora intervenire, due delle cose principali sulle quali intervenire sono queste. Uno, la questione del preziario, cioè qui nella ricostruzione partita c'è il problema reale che purtroppo, però insomma così è, i prezzi di molte materie prime, di molte prestazioni, di molti semilavoranti, di molti materiali sono aumentati e aumentati in maniera significativa e questo non, come si dice, non batte più paro con i criteri con cui vengono definiti i contributi per la ricostruzione. La seconda questione è quella dell'IVA, del recupero dell'IVA. Per chi ha un differenziale, per chi ha l'IVA propria al 4%, per esempio per le attività agricole, non recupererà e deve invece pagare l'IVA al 20, al 21, al 15, quello che è il percento per le attività di ricostruzione che devono essere fatte e quello è un problema, perché sennò quello per loro diventa un costo. Commissario Legnini che proprio in questa occasione ha presentato con soddisfazione i dati dei primi cinque mesi del 2021 della ricostruzione privata in termini di cantieri avviati. Nei primi cinque mesi del 2021 gli uffici speciali della ricostruzione delle quattro regioni hanno concesso circa 3.000 contributi corrispondenti ad altrettanti cantieri, che è un numero molto elevato. Voi considerate che per l'intero anno 2020 il numero dei decreti, pur in crescita, era stato il 2.700, il che significa, facendo dei calcoli abbastanza semplici, che noi triplichiamo circa la capacità di rispondere alle istanze, appunto concedendo le risorse ai cittadini per cantieri di varia dimensione. Ad oggi nell'intero cratere sono aperti, cratere fuori cratere, sono aperti circa 5.000 cantieri. Elica risponde con la messa in libertà dei dipendenti allo sciopero a scacchiera avviato dal 21 giugno dagli operai dello stabilimento di Mergo, nell'ambito dell'avvertenza contro il piano strategico che prevede esuberi, delocalizzazioni e la chiusura di uno stabilimento. Immediata la reazione dei lavoratori che ieri hanno deciso di fermare completamente la produzione proclamando uno sciopero di tutto lo stabilimento per l'intera giornata, annunciano i sindacati che gridano quindi alla serrata. Certamente il modo peggiore per avvicinarsi all'incontro previsto al Ministero per mercoledì prossimo. Stiamo valutando se portare questa condotta all'attenzione dell'autorità giudiziaria, hanno concluso le organizzazioni sindacali. E veniamo alla pandemia che continua a battere in ritirata nella nostra regione, nonostante i timori giustificatissimi relativi alla cosiddetta variante Delta. 13 neopositivi registrati nelle ultime 24 ore su 817 tamponi analizzati nel percorso nuove diagnosi con un rapporto pari all'1,6%. 3 i contagiati nelle province di Pesor Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo 1 nel Lanconetano. I soggetti sintomatici sono 4. Ancora in discesa il numero dei ricoverati che sono 30, mentre in 6 restano nelle terapie intensive. Ormai verso la chiusura il Covid Hospital di Civitanova Marche, ancora un decesso. Si tratta di una 77enne di Osimo morta a Torrette. Molto più di una guida turistica è l'itinerario della bellezza che coinvolge 13 comuni della provincia di Pesor Urbino. Oggi, nello splendido scenario di Villa Miralfiore, la presentazione, il servizio di Camilla Cataldo. 13 comuni che condividono un ambiente incontaminato, costellato da bellezze rinascimentali, dalla costa adriatica degli Appennini, fanno da scenario l'itinerario della bellezza nella provincia di Pesor Urbino. Colline, spiagge, borghi, città medievali, rocche, castelli, aree archeologiche, musei, pinacoteche, teati storici. Non manca proprio nulla in questo viaggio tra 13 perle suggestive e piene di fascino. Cagli, Cogli al Metauro, Fano, Fossombrone, Gradara, Gabicce Mare, Mondavio Pergola, Pesaro, Sasso Corvara Auditore, Tavulia, Terre Roveresche, Urbino. Fanno parte della Guida delle Meraviglie che il nostro territorio offre per promuovere la conoscenza di queste fantastiche zone. Amerigo Varotti, questo itinerario della bellezza è un progetto nato quattro anni fa. Sì, quattro anni spesi bene perché il progetto sta riscuotendo sempre maggiori consensi. Oggi presentiamo la nuova edizione, edizione 2021, che ha molte novità. Ma prima voglio dire e ricordare che l'itinerario della bellezza non è solamente la realizzazione di una guida perché altrimenti c'è tutta questa confusione per fare una guida turistica. È in realtà un grande progetto di marketing turistico che utilizza tutti gli strumenti del marketing per promuovere e valorizzare le località che hanno affidato alla ConfCommercio l'incarico di essere promosse e valorizzate. Quindi un progetto con il quale noi utilizziamo tutti gli strumenti del marketing, dal web ai social, ai blog, le fiere, gli educational, l'app, insomma tanti strumenti che ci consentono di far conoscere in Italia e nel mondo, i 13 comuni che partecipano a questa iniziativa. La novità appunto di quest'anno, una delle novità, è che i comuni sono 13. In aumento siamo partiti con 4, poi 5, poi 8, poi 12. Quest'anno sono 13 comuni. New Entry, il comune di Sassocorvara Auditore e il comune di Tavuglia. Ma abbiamo anche un ingresso molto importante per la nostra provincia e per la nostra regione che sono le grotte di Frassassi, che pur essendo fuori dalla provincia di Peso Urbino, ma sono una delle grandi eccellenze della nostra terra. È un richiamo anche per la provincia di Peso Urbino. Quindi questa è una delle novità. L'altra novità sta proprio nella grafica che abbiamo deciso. Abbiamo migliorato la leggibilità della guida facendone due edizioni, una in italiano e una in inglese, mentre prima avevamo un'edizione unica e quindi questo ovviamente non consentiva una lettura adeguata, nel senso che i caratteri erano troppo piccoli, quindi abbiamo migliorato l'aspetto anche fotografico e credo che insomma dal punto di vista della guida abbiamo realizzato un ottimo prodotto. Il punto sul verdicchio. Domani alla Cantina Belisario di Matelica in un incontro con i produttori organizzato dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini in presenza dell'assessore all'agricoltura Mirco Carloni e con la partecipazione dell'amministrazione comunale. Il focus previsto alle 9.30 sulla piccola grande denominazione coincide con un momento particolarmente significativo per l'economia vinicola del territorio. All'indomani della modifica al disciplinare relativa al cambio del nome da verdicchio di Matelica Doc a Matelica Doc con la parola del vitigno che diventerà quindi facoltativa. Il percorso di approvazione per una rivoluzione che legherà ancora di più il vigneto con il proprio territorio e le sue specificità prevede un iter burocratico di circa due anni. Il prossimo 29 giugno il comune di Recanati, il centro nazionale di studi leopardiani, Casa Leopardi e la città intera festeggeranno il 223esimo anniversario della nascita di Giacomo Leopardi con un ricco cartellone di eventi dedicati al poeta. Si parte lunedì presso la sala Foschi del centro studi con alle 17.30 la professoressa Laura Melosi che presenterà il suo ultimo libro da dolcezza ed eccellenza degli stili sulle operette morali di Leopardi. Operatori turistici e giornalisti russi sono giunti ieri nelle Marche per un intenso educational tour che si concluderà lunedì. Oggi la visita nel Fermano e nel Maceratese. Vediamo. E' atterrato nel tardo pomeriggio di ieri all'aeroporto di Falconare il Charter che ha portato nelle Marche una folta delegazione di 70 tra operatori turistici rappresentanti degli enti del turismo e giornalisti russi. Fino a lunedì gli ospiti visiteranno tutte le province marchigiane un educational tour organizzato da Regione e Camera di Commercio che potrà aprire le porte a nuove partnership e collaborazioni tra due territori che condividono vocazioni turistiche e commerciali molto affini. La delegazione si è spostata subito ad Ascoli Piceno per la serata inaugurale alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli. Sentiamo Francesco Baldelli, assessore regionale all'infrastrutture. L'educational che inizia oggi serve appunto per consolidare i rapporti non solo con la federazione russa ma con tutto l'est europeo e il mondo asiatico per attivare anche dei voli verso questo aeroporto anche grazie alla collaborazione non solo di S7 con cui stiamo consolidando una partnership ma anche con la Camera di Commercio. Le Marche accolgono a braccia aperte questa nuova prospettiva, questi nuovi investimenti sull'aeroporto di Falconara che potranno rappresentare uno straordinario moltiplicatore per l'economia marchigiana non solo turistica ma anche imprenditoriale. Siamo all'ampia pagina sportiva di oggi, capriamo con la pallavolo, la Megabox Vallefoglia prosegue a pieno ritmo l'allestimento della formazione impegnata nella prossima stagione nel massimo campionato femminile. Oggi l'annuncio dell'ingaggio della schiacciatrice Diana Cosareva, russa 22 anni da compiere ma arrivata nel nostro paese all'età di 8 anni, si è formata all'idea Volli Bologna poi ha indossato le casacche di Legnano, Montecchio Maggiore, Sassuolo, Scandice, Casal Maggiore e anche transitata a Macerata con la CBF Balducci nel 2019. Con lei, ha detto il coach Fabio Bonafede, ci aspettiamo un percorso di crescita tecnica che vada di pari passo con il progetto societario. La squadra ha un buon potenziale, stanno arrivando giocatrici di alto livello e spero proprio che potremo toglierci delle soddisfazioni, dando del filo da torci da tutte le avversarie, sono state le prime parole del neo martello bianco verde. Passando al podismo, domenica si disputerà con quasi 400 iscritti la 34esima edizione del trofeo Città di Potenza Picena, il servizio di Mario Giannini. Dopo la rinuncia al trofeo 25 aprile per i noti motivi sanitari, l'atletica Potenza Picena del presidente Franco Leandrini ha programmato per domenica 27 giugno il 34esimo trofeo Città di Potenza Picena con il sottotitolo 19esimo trofeo Stabilimento Balneare Solero. Poiché esistono ancora alcune norme che impediscono una partecipazione di massa, che poteva vedere al via circa mille partecipanti. La manifestazione è riservata ai soli agonisti, che in ogni caso sfioreranno le 400 presenze. Sentiamo il presidente Franco Leandrini che ci riferisce sui criteri dell'organizzazione. Ci riproporeremo quest'anno a Porto Potenza dopo un anno fermi per il Covid con la 34esima trofeo Città di Potenza Picena. Abbiamo cambiato il percorso, non sarà più un percorso cittadino, ma sarà un percorso per le colline di Potenza Picena. Il percorso sarà la partenza da Piazza Duet di Porto Potenza, poi ci sarà un percorso pianeggiante in via Lombardia, Foce Asola e poi prendiamo per Monte Canepino. Passeremo nelle vicinanze di Villa Bonaccorsi, entriamo nella parte sotto di Monte Canepino, al centro di Monte Canepino e ritorno tutto a Porto Potenza, verso la discesa che porta all'oratorio di Porto Potenza e poi abbiamo la via Livorno dove si terrà l'arrivo di fronte alla farmacia del dottor Cagiotti. Sono venuto qui a Civitanova oggi per vedere anche come funziona tutti questi nuovi sistemi del Covid. La giornata è terribile, calda. Noi proporremo quello che abbiamo in desiderio, un ristoro all'inizio e poi faremo due ristori lungo il percorso perché se è una giornata calda come oggi ci servono due ristori solo acqua e poi avremo il ristoro finale sempre con l'acqua a Porto Potenza. Di più non si può fare perché ci dobbiamo attenere alle nuove leggi del Covid. La mia speranza è di vedere di nuovo tutti quei atleti che è un pezzo che non vedo più. Amici ricordo che la gara è sui 11 chilometri. Io vi aspetto tutti domenica 27 a Porto Potenza Picena, Piazza Due. Calcio, la nuova San Benedettese un po' a sorpresa ha ufficializzato Sandro Porchia come nuovo direttore sportivo e Massimo Donati come neoallenatore. Porchia, 44 anni, nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di responsabile dei settori giovanili di Palermo e Trapani anche se in quest'ultimo club per qualche mese ha ricoperto anche l'incarico di direttore sportivo. Donati, 40 anni e ha la sua prima esperienza da tecnico. Negli ultimi due anni ha svolto il ruolo di vice nel Kilmarnock, squadra scozzese di Serie A. Da calciatore ha vestito le maglie, tra le altre di Atalanta, Milan e Celtic. Entrambi hanno firmato un contratto fino al giugno 2022 e saranno presentati martedì prossimo. Gianluca Colavitti invece, come ampiamente previsto, è confermatissimo sulla panchina dell'Ancona Matelica. Ed a proposito di appuntamenti del fine settimana, sabato e domenica Ascoli ospiterà l'evento clou stagionale dell'automobilismo in salita alla Coppa Paolino Teodori. Vediamo. È l'appuntamento clou della stagione dell'automobilismo in salita. Sabato e domenica, infatti, ad Ascoli si disputerà la sessantesima Coppa Paolino Teodori con le San Marco San Giacomo, tappa italiana del Campionato Europeo della Montagna. Il programma vedrà le due salite di prova sabato 26 ad iniziare dalle 9 e le due masce di gara domenica 27, sempre dalle 9, con diretta sul canale 111 di TVRS. Le premiazioni saranno effettuate invece presso il parco chiuso di San Giacomo. 231 i piloti iscritti, una trentina gli stranieri provenienti da Francia, Repubblica Ceca, Svizzera, Croazia, Polonia, Ungheria e Slovenia, i migliori in circolazione che si sfidano periodicamente in tutto il continente. È una ripartenza attesa dopo il forzato stop dello scorso anno, con un percorso adeguato con lavori sulla sicurezza passiva che verranno poi utili anche alla mobilità ordinaria. Una bella vetrina insomma per il territorio già protagonista a maggio di un arrivo di tappa del Giro d'Italia ciclistico. Ricordiamo quindi ancora dalle 9 di domenica la diretta sul canale 111 di TVRS Marche. Ancora volley, innesto di grande esperienza e qualità per la Mestor Macerata, che ingaggia Gabriele Robbiati, il centrale classe 83 originario di Vercelli e vanta una lunghissima carriera passata sui campi di Serie A. In bianco rosso sarà uno dei nuovi punti di riferimento per i giovani, oltre ad una risorsa in campo grazie ai suoi centimetri e dalle capacità a muro. Nello scorso anno ha vestito la maglia della Chemas Santa Crocina 2, con la quale ha chiuso la stagione negli ottavi di finale dei play-off. Passiamo ora alle previsioni meteo per sabato 26 giugno. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, che vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi tempo nel complesso bello in gran parte d'Italia, ma con il caldo ancora protagonista al sud, nonostante un leggero calo delle temperature. Cominciamo però intanto a controllare la nuvolosità sull'Italia e come vedete sta una bella giornata di sole, ogni tanto si fa vedere qualche velatura, ma nubi davvero di poco conto. Nelle ore pomeridiane, lo vediamo dalla previsione delle precipitazioni, qualche temporale riuscirà ancora a formarsi in montagna al nord, ma dovrebbe rimanere confinato alla fascia alpina-prealpina e comunque fenomeni isolati. Quindi in definitiva ci attende un sabato da piena estate in tutta Italia, parlavamo di questi temporali o brevi acquazzoni sull'arco alpino nel pomeriggio, per il resto sole e temperature sia alte ma non più fino a 40-42 gradi come nei giorni scorsi. Al centro-nord addiettura rimarremo al di sotto dei 35 gradi in maniera diffusa, al sud ancora punte leggermente alte, soprattutto in Sicilia, ma in gran parte del sud già perdiamo 2-3 gradi. Per sapere nel dettaglio comunque come andranno le cose proprio da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo. Ed ancora un appuntamento, prima di chiudere sabato e domenica, l'autoclub Luigi Fagioli di Osimo ha organizzato la terza edizione di Donna Sprint al Volante. Il 26 prove di abilità nel percorso verso Osimo Stazione, mentre il giorno successivo alle 9.30 partenza in direzione nell'Oreto e rientro ad Osimo per l'ultima prova di precisione. È tutto, grazie per la cortesa attenzione e buon fine settimana.